Protesta con esito positivo, quella delle scorse ore a Venezia su Cagjustinian. Gli spazi dell'ex ospedale di Dorso Duro continueranno al momento ad ospitare i servizi di assistenza socio-sanitaria, che quindi non verranno trasferiti nella sede dell'ospedale civile. E quanto deciso ieri a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto. Ieri il presidio di protesta di associazioni e comitati cittadini, sostenuti anche dai consiglieri regionali di opposizione. Quasi un centinaio di persone hanno preso parte alla manifestazione di protesta promossa e messa in campo dal Movimento per la difesa della sanità pubblica veneziana.